Sindaco, problema a scuole, colpisce anche il comune di Isola del Gran Sasso, doppi turni fino a fine anno in Muspa di Verano, non arriveranno, qual è la situazione? Colpisce pure il comune di Isola del Gran Sasso, io penso colpisce maggiormente il comune di Isola del Gran Sasso, come è risaputo detto tante volte, senza scuola, l'unica scuola agibile che c'è è la scuola elementare di Isola dove stiamo facendo i doppi turni elementari in media. Una situazione difficile da gestire però per alcune mamme? Una situazione difficilissima perché sì, è una scuola dove nel 2009 per capirci c'è stato dato un est di inagibilità e quindi si faceva il doppio turno sulla scuola media, abbandonando l'elementare, oggi ai genitori convincerli che la scuola elementare è la scuola più sicura di Isola, è molto difficile, tanti stanno prendendo in considerazione il fatto di spostare i figli, si sta facendo di tutto di convincerli di non farlo, farli rimanere a Isola, c'è la scuola media, abbiamo già iniziato i sondaggi, abbiamo già predisposto i rilievi topografici, domani c'è l'incontro con i progettisti per iniziare la progettazione e quindi la realizzazione, abbiamo la promessa che a settembre sarà pronta. La scuola media sarà realizzata vicino ai piazzali di San Gabriele, comunque nella zona artigianale di Isola, tra i confini tra San Gabriele e Isola, è già predisposta con le opere di urbanizzazione, c'è già il parcheggio, la parte del parcheggio di San Gabriele che sarà adattato al parcheggio per le scuole, l'area è già predisposta, avevamo già un preliminare dove avevamo già presentato il preliminare per realizzare il polo unico, quindi diciamo che abbiamo tutte le carte e regole per poter iniziare prestissimo la realizzazione della nuova scuola. Quali fondi? Sì, è una situazione un po' paradossale, ancora oggi sono incredulo per questa situazione, la vivo veramente con dispiacere, io ho manifestato insieme ai genitori l'altro giorno davanti alla scuola elementare dove si chiedeva alle scuole sicure, in duplice veste da sindaco e da genitore perché ho il ragazzo che mi frequenta la terza media e sicuramente sono preoccupato come tutti i genitori di Isola, abbiamo delle strutture scolastici assolutamente inadeguate, però non possiamo fermarci, dobbiamo avere pure un po' di coraggio e continuare a vivere anche se anche io, come tutte le altre mamme, i genitori sono preoccupati per la situazione scolastica.